Quante volte siete andati in vacanza decisi a fare splendide riprese con lo smartphone per poi ritrovarvi con video decisamente tremolanti e meno belli di quanto immaginavate? Io ho la soluzione per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. La soluzione ai video tremolanti si chiama DJI Osmo Mobile ed è un dispositivo pensato per unire la portabilità dei nostri smartphone alla professionalità di uno stabilizzatore. Il funzionamento è piuttosto semplice, agganciate lo smartphone al supporto mobile, accendete Osmo Mobile e collegate il tutto all'applicazione dedicata. L'unica accortezza che dovrete avere è nel posizionamento del telefono. Con un po' di pazienza infatti dovrete trovare il giusto bilanciamento in modo che lo smartphone sia il più dritto possibile, al resto ci penserà Osmo Mobile. Ma cosa fa in pratica? Semplice, mantiene stabile il dispositivo tramite una serie di movimenti meccanici compensatori. Voi quindi dovrete solo cercare di muovere il polso nel modo più fluido possibile, sfruttando il piccolo stick per inquadrare ciò che desiderate. Sulla parte posteriore troverete poi un grilletto. Tenendolo premuto bloccherete il telefono in modo che punti sempre nella stessa direzione. Con una doppia pressione invece resetterete la posizione così che il vostro smartphone tornerà ad essere nella posizione iniziale. Inoltre avrete la possibilità di selezionare un soggetto e fare in modo che Osmo Mobile continui a seguirlo e a riprenderlo, senza che voi facciate alcuno sforzo. Tutti questi accorgimenti sono pensati per aiutarvi ad ottenere riprese davvero splendide e stabili, indipendentemente dallo scopo. È adatto quindi sia a chi vuole avere splendidi video delle vacanze, dei propri viaggi, delle feste in famiglia o delle performance sportive dei figli. Si addice però anche alle esigenze di videoamatori e di coloro che vogliono lanciarsi nel fantastico mondo di YouTube. Inoltre tramite l'applicazione dedicata sarà possibile sperimentare anche il live streaming. Invece quindi di registrare un filmato potete trasmettere in diretta su Facebook o YouTube per mostrare a tutti cosa state combinando. Se volete quindi scatenare il piccolo Spielberg che c'è dentro di voi bastano poco più di 300€, a patto ovviamente che siate in possesso di uno smartphone con una ottima fotocamera. Direi che per oggi è tutto, io vado a trasmettere in diretta le mie disavventure quotidiane. Voi ricordatevi nel frattempo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! Ciao!